2024 2024 di Enrico Pagliarini ed ecco a voi una nuova puntata di 2024 bentornati il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024 radio 24.it di che cosa parleremo in questa puntata questa settimana parleremo di banda larga da un po' che non ce ne occupiamo non ci occupiamo dei progetti nazionali questa sera partiremo da un da una piccola esperienza da un piccolo progetto di un piccolo paese per capire quello che possono fare i cittadini laddove la pubblica amministrazione o gli operatori privati non arrivano poi parleremo anche di pubblicità online parleremo sempre a proposito di banda larga di banda larga mobile che diventa sempre più larga anche se ultimamente stiamo vedendo delle esibizioni di forza potremmo dire così degli operatori almeno di due dei due principali operatori di telefonia mobile in italia poi ci sono altre cose di cui parleremo nel corso della nostra puntata iniziamo a proposito di altre cose dalle nostre digital news le notizie alcune delle notizie della settimana che riguardano la tecnologia e quelle che pensiamo possano dare spunto questo è un po' il motivo per cui le selezioniamo in questo modo e le inseriamo in questa rubrica digital news possano dar modo di collegarle con alcuni fenomeni alcuni mega trend che stiamo commentando che commentiamo sempre ogni settimana a 2024 iniziamo da alcuni numeri secondo idc il numero di tablet venduti nel corso del 2014 crescerà rispetto al 2013 del 7,2 per cento dato manca ormai un mese quindi i conti possono essere fatti in modo molto facile perché sono già stati spediti pezzi che verranno venduti nel prossimo natale i tempi di sostituzione dei tablet sono intanto più lunghi rispetto a quelli degli smartphone e quindi la corsa alla vendita dei tablet sta rallentando va anche aggiunto che stiamo parlando di molti meno pezzi secondo perché secondo idc nel corso di quest'anno verranno venduti 235 milioni di tablet rispetto alle oltre miliardo di smartphone un miliardo di smartphone è stato raggiunto lo scorso anno quest'anno sicuramente verrà superato il miliardo di smartphone ampiamente superato forse un miliardo 2 miliardi 3 allora android sul nel mercato dei tablet domina con una quota che sfiora il 68 per cento stiamo parlando di quote mondiali quindi poi bisognerebbe andare a vedere paese per paese nei paesi più ricchi apple ha una quota di mercato più alta comunque android 68 per cento apple segue al 27,5 e windows al 4,6 per cento il parlamento europeo ha votato una risoluzione per chiedere alla commissione europea di creare una normativa che imponga i motori di ricerca di scorporare le attività connesse sostanzialmente senza fare il nome di google è una risoluzione una richiesta che riguarda google che dovrebbe secondo le intenzioni del parlamento europeo scorporare le attività di search engine quindi del motore di ricerca da tutto il resto la risoluzione è praticamente inutile come molte delle risoluzioni del parlamento cioè chi è esperto di questioni europee sa che le risoluzioni sono delle prese di posizione ma che insomma hanno una utilità molto relativa ma è sicuramente un messaggio politico che va in varie direzioni allora la capacità di aggregare incrociare e analizzare i dati di google è secondo il parlamento europeo ma non solo secondo il parlamento europeo questo è un dato oggettivo troppo grande e quindi questo è un primo messaggio cioè si dice alla commissione preoccupiamoci e occupiamoci di questo tema che è un tema poi c'è anche un messaggio di carattere più politico più diplomatico chiamiamolo così visto che è in atto da mesi una trattativa fra unione europea e stati uniti per arrivare ad un nuovo trattato di libero scambio e sicuramente il tema della tutela delle grandi aziende della rete internet per gli stati uniti è molto importante questa è una sorta di messaggio lanciato dal parlamento europeo sempre da bruxelles arriva la notizia che il consiglio europeo delle telecomunicazioni non ha trovato alcun accordo sulla fine del roaming e sulla neutralità della rete l'abbiamo anticipato la scorsa settimana i ministri delle telecomunicazioni per l'italia cioè il sottosegretario che di fatto è come fosse il ministro visto che non abbiamo il ministero delle telecomunicazioni antonello giacomelli che appunto rappresentava il nostro paese allora il parlamento europeo aveva chiesto aveva approvato una norma per far terminare le tariffe di roaming alla fine del prossimo anno naturalmente questo poi va discusso dal consiglio europeo e quindi visto che non c'è nessun accordo sicuramente questa data non verrà rispettata quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi poi c'è il grande tema importante della neutralità della rete su questo non c'è accordo perché ci sono delle posizioni distanti fra paesi sostanzialmente alcuni paesi tra cui purtroppo l'italia sembra almeno dalle bozze che sono girate più a favore delle società di telecomunicazioni rispetto ad altri paesi che invece vogliono mantenere una nette una rete neutrale a favore soprattutto dei cittadini la neutralità della rete è uno dei grandi principi che ha fatto crescere nascere e sviluppare la rete internet e c'è chi soprattutto le grandi società di telecomunicazioni vorrebbero frenare un po questo principio cioè dicendo in alcuni casi vogliamo gestire come meglio crediamo il traffico su internet vedremo che cosa succederà una notizia che riguarda i conti di spotify e che ci fanno capire quanto ancora in bilico sia il business della musica in streaming c'è stato un grande boom tutti parlano della musica in streaming però attenzione questo è un business che ancora non dà soldi perché nel 2013 i ricavi di spotify sono cresciuti del 73 per cento rispetto al 2012 quindi moltissimo quindi grande successo ricava l'azienda 747 milioni di euro ma le perdite sono salite a 93 milioni di euro in crescita del 16 per cento quindi sostanzialmente per mandare in streaming più musica devono pagare più diritti a chi detiene i diritti della musica e quindi le perdite aumentano solo in francia in gran bretagna spotify è inattivo raggiungerà naturalmente l'equilibrio in tutto il mondo solo quando crescerà in modo consistente il numero di abbonati raggiungo una notizia che riguarda twitter che inizierà a breve a raccogliere informazioni sulle applicazioni che gli utenti hanno installato sullo smartphone e uno dirà per quale motivo perché che cosa ci fa con queste informazioni allora tutto ciò servirà per conoscere meglio le preferenze e offrire pubblicità più mirata rispetto a quella che viene offerta oggi e twitter è un'altra azienda che ha ottenuto un grande successo di utenti ma che ha un problema di raccolta pubblicitaria se non aumenta la raccolta pubblicitaria i conti non stanno in piedi e quindi questa questo è un ulteriore tentativo per offrire ai clienti agli investitori pubblicitari una precisione per raggiungere meglio il target pubblicitario faccio un esempio se twitter ha accesso a queste informazioni tra l'altro sarà possibile negare il consenso però diciamo ammettiamo che io accetti che twitter vada a vedere sul mio smartphone che tipo di applicazioni ho se twitter si accorge che io ho molte applicazioni che riguardano i viaggi gli aeroplani e cose analoghe sicuramente sarò un utente che molto probabilmente sarà interessato ai viaggi agli aeroplani eccetera eccetera quindi si rivolgerà ai propri investitori pubblicitari dicendo guarda che in quel caso certo che queste cose non vengono fatte personalmente non andranno a dire enrico pagliarini è un appassionato di aeroplani che è vero però le pubblicità verranno erogate in modo anonimo però sui terminali di quelli che sono interessati a questo settore questo vale per tutti i campi per tutti i settori e gli esempi possono essere migliaia da circa una settimana il governo ha pubblicato su internet il nuovo piano banda larga e questa è già una buona notizia sarà in consultazione pubblica fino al 20 dicembre sul sito dell'agenzia per l'italia digitale quindi se avete voglia e tempo sono circa 120 pagine di una lettura abbastanza semplice non bisogna essere dei grandissimi esperti è interessante adesso non l'ho letto ancora tutto ho l'obiettivo di concluderlo nei prossimi giorni non perché in una settimana non si riescono a leggere 120 pagine ma perché purtroppo ci sono tantissime altre cose da fare da leggere quindi non ho fatto in tempo a terminare comunque l'intenzione quella di terminare studiarselo per bene l'obiettivo del nuovo piano banda larga è intanto è un obbligo europeo comunque è di attivare entro il 2020 quindi è un piano a medio periodo medio lungo periodo entro il 2020 connessione ad almeno 100 megabit per per l'85 per cento della popolazione e di almeno 30 megabit per il rimanente 15 per cento degli italiani per tutto ciò ci sono a disposizione fondi per 6 miliardi e 200 milioni che non sono pochi non sono neanche moltissimi però insomma è una quota ragionevole è naturalmente un piano complesso che prevede alcune opzioni per essere realizzato bisognerà attendere la consultazione pubblica e poi tutta una serie di interventi normativi necessari quindi a un lavoro complicato delicato complesso e che insomma richiederà mesi per vedere la luce comunque è già una buona notizia mi sembra che il piano sia sicuramente molto generico molto generale però ci siano gli elementi giusti tra i modelli che vengono contemplati all'interno del piano c'è quello che noi lo dico tantissime volte riteniamo essere l'unico che può risolvere molti dei problemi della rete internet italiana cioè una infrastruttura pubblica passiva e neutrale aperta al passaggio di tutti gli operatori di telecomunicazioni per garantire la migliore concorrenza possibile al mercato su un modello che conosciamo già per le altre grandi reti rete pubblica e poi chi fornisce il servizio è privato e fa concorrenza l'uno con l'altro poi bisogna garantire la concorrenza e questo è un altro capitolo tra l'altro questa settimana ho partecipato ad un interessante appuntamento organizzato dal dall'internet exchange di milano il mix dove si è parlato della sicurezza delle infrastrutture della sicurezza degli internet exchange che sono dei punti dove gli operatori di telecomunicazioni scambiano traffico e quindi naturalmente questo è un punto delicato critico allora in termini di sicurezza un'infrastruttura pubblica garantirebbe maggiori garanzie rispetto ad un'infrastruttura privata se internet è un'infrastruttura critica e lo è la costruzione di un network pubblico garantirebbe quindi maggiore garanzia anche da questo punto di vista e questo non è un tema da sottovalutare e soprattutto dopo tutto quello che ha spifferato snowden negli ultimi anni questo è un tema che fortunatamente anche in europa soprattutto in germania viene tenuto in forte considerazione un po meno in italia però questo è un tema di cui parlare allora mentre tutto ciò avanza lentamente perché comunque tutto ciò avanza lentamente gli operatori di telecomunicazioni investono nelle aree dove c'è un ritorno veloce dell'investimento stiamo vedendo comunque che tutti gli operatori a partire da telecom italia stanno mettendo fibra ottica fino ai cabinet e da lì poi si continua con il rame perché non va mai dimenticato che per adesso i progetti prevedono la connessione in fibra nonostante le pubblicità che parlano solo di fibra ottica rimane comunque il punto d'accesso finale in rame però prendiamo atto che ci sono comunque degli investimenti nelle città e nei grandi centri abitati nel resto d'italia molte zone rimangono in come si dice in digital divide allora è vero che in queste zone e va dato merito a questi piccoli operatori ci sono molti piccoli operatori wireless che forniscono connessioni senza fili per risolvere per tappare i buchi per risolvere questo problema del digital divide però in molti casi non ci sono molte altre soluzioni è vero che se proprio proprio uno non ha alternative può rivolgersi anche al satellite però ricordo sempre che col satellite uno deve fare 36.000 chilometri a salire 36.000 chilometri a scendere e ha fatto il clic di richiesta e poi per far arrivare i dati 36.000 chilometri a salire 36.000 chilometri a scendere insomma dove non è possibile alternativa va bene anche i satellite però meglio occuparsi di altre tecnologie allora sentite quello che sta succedendo a verrua savoia siamo a 50 chilometri da torino il motore dell'iniziativa di cui vogliamo parlare in questa puntata di 2024 è il professor daniele trinchero che insegna radio planning e wireless sensor network al politecnico di torino benvenuto a 2024 grazie mille per l'invito lei si occupa di internet di radiofrequenze di una cosa che molti ascoltatori conoscono che si chiama anche internet of things all'interno del politecnico di torino ma ha avuto la possibilità abitando anche in questo centro vicino a torino di contribuire alla realizzazione di un progetto le chiedo subito dove lei si trova quindi verrua savoia dov'è e soprattutto quanti abitanti ci sono ci descrive un po il territorio che è un elemento importante sì allora in questo momento io mi trovo proprio fisicamente a verrua savoia è un comune di collina all'inizio del monferrato del basso monferrato siamo a 60 chilometri da torino abbiamo una popolazione di circa 1500 abitanti con un'età media abbastanza elevata diciamo che la gran parte delle persone in grosso modo quasi il 50 per cento veleggia o supera i 70 anni e lì qualche anno fa il politecnico di torino ha lanciato un progetto perché come in altre parti d'italia e lo sappiamo molto bene c'era un problema di connettività internet ma anche voi volevate sperimentare una serie di soluzioni senza fili per portare internet siete partiti con un progetto che poi è diventata un'altra cosa in breve che cosa è successo allora noi all'inizio nel 2006 un po' per gioco aiutammo l'amministrazione comunale ad aprire il primo spot libero e pubblico sul territorio piemontese al di fuori della città di torino realizzammo dei ponti radio totalmente artigianali e molto sperimentali con materiali di recupero e portammo una connettività da torino a verrua savoia che all'epoca sembrava tantissimo era di 2 megabit con quella connettività aprimo il nostro primo spot da allora le cose poi si sono evolute nel tempo e nel 2010 decidemmo di estendere quel progetto portando molta più banda e in collaborazione con il ministero dello sviluppo economico realizzammo una rete totalmente sperimentale che doveva in qualche modo riuscire a servire e a coprire tutto il territorio comunale e consentire a tutti gli abitanti di accedere dalla casa e non più attraverso un hotspot pubblico ubicato in municipio di accedere all'internet stiamo parlando di un collegamento wireless quindi senza fili radiofrequenza giusto assolutamente sì noi lo realizzavamo prendendo i chipset cioè i microprocessori dei comunissimi router wifi quelli che si trovano al supermercato li montavamo su dei computer obsoleti oramai che non utilizzavamo più nei laboratori trasformavamo il tutto in trasmettitori da ponti radio prendevamo antenne che venivano dismesse dagli operatori radiofonici quelli che fanno broadcasting e così facendo costruivamo quei sistemi che servivano portare la banda sul territorio allora questa sperimentazione terminerà il 31 dicembre prossimo a questo punto che cosa avete pensato a questo punto diciamo già da qualche mese che cosa avete pensato di fare per andare oltre questa sperimentazione che appunto alla fine dell'anno terminerà sì allora diciamo che noi ci siamo ritrovati in mano una cosa in questi anni soprattutto dal 2010 ad oggi noi abbiamo realizzato un sistema di rete sul territorio che consente di portare connettività di 20 megabit bidirezionali a qualcosa come 260 sperimentatori e di portarglielo direttamente nella loro casa è una connettività importante ci stiamo confrontando con quei valori di connettività che noi troviamo semplicemente e solo delle grandi città italiane al momento e che dispongono di fibra allora per avere in qualche modo una continuità in un progetto che comunque finisce perché finisce il suo aspetto sperimentale tutti questi partecipanti tutti questi sperimentatori hanno deciso di farsi parte attiva quindi hanno costituito un'associazione di cittadini rigorosamente di promozione sociale ed esclusivamente non a scopo di lucro che si è registrata come internet service provider quindi come operatore di comunicazione e che farà della distribuzione della banda sul territorio il suo mandato istituzionale quindi i cittadini diventeranno non più fruitori del servizio internet ma diventeranno i provider di se stessi. Con che prezzi per portare questi 20 megabit? Beh noi abbiamo fatto delle proiezioni e abbiamo realizzato che il costo che deriva dall'andare ad acquistare tutti insieme e non separatamente la banda monte portarla sul territorio e gestirla attraverso un meccanismo di lavoro condiviso e totalmente non a scopo di lucro ci verrà a costare 50 euro all'anno. A testa? A testa. Per queste 260 case, abitazioni. Le faccio alcune domande di carattere tecnico ma non troppo tecnico, la banda a Verrua Savoia come gliela portate? Senza fili o arriva una fibra ottica, un cavo diverso? Sarebbe bellissimo se potessimo disporre di fibra ottica, sfortunatamente al momento in Italia molti comuni come Verrua Savoia non sono ancora serviti dalla fibra. Noi abbiamo utilizzato fino a questo momento dei ponti molto artigianali, ponti radio molto artigianali che venivano realizzati nei laboratori del Politecnico. A partire da oggi, perché oggi inizia l'operatività vera e piena dell'associazione, utilizzeremo invece ponti di tipo commerciale che ci sono messi a disposizione da chi la banda ce la vende, perché in realtà questa associazione non si colloca in competizione, in antitesi con i provider tradizionali, semplicemente noi diventiamo uno strumento per loro, per arrivare su un territorio dove poi ci pensiamo noi a gestire la banda e a ridistribuirla localmente. Se un operatore privato, perché esistono tanti operatori privati, ne abbiamo intervistati devo dire qualche anno fa, perché oramai poi è diventata un po' una cosa nota, in alcuni territori sono operatori specializzati nei collegamenti Hyperlan, comunque wireless, per collegare appunto le case in zone dove non c'è ADSL, dove non ci sono altri tipi di collegamenti con internet. In questo caso se arrivasse un operatore non farebbe certo questi prezzi. Questi prezzi sono sicuramente molto bassi, dovuti essenzialmente alla natura non di lucro di questo progetto, immagino. Esatto, noi abbiamo una situazione in cui chi trae profitto dall'esistenza di questa rete sono i cittadini stessi e il profitto non è economico, ma è ovviamente il valore derivante dalla disponibilità della connettività in zona, però è un profitto, ed è un profitto vero ed è anche importante, perché poi alla fine per poter vivere la campagna oggi la disponibilità di internet è assolutamente fondamentale. Ribadisco, io non sono assolutamente convinto che si possa pensare questo episodio con una lettura in antitesi agli operatori. Gli stessi operatori di Perlan in un territorio come Verrua Savoia avevano provato ad operare ma è un territorio così complesso, con un'organizzazione così delocalizzata, che non riuscivano a dare copertura a più del 50% del territorio, a meno di installare, ma a quel punto la convenienza economica non c'era, più di 5 impianti. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo installato e manterremo 5 impianti su un territorio di dimensioni grande e comunque con un numero di abitanti molto piccolo e l'abbiamo fatto grazie al fatto che rinunciamo a guadagnare. Certo, secondo lei un progetto del genere è replicabile in altre parti d'Italia o se non c'è un professor trinchero in altre zone molto difficilmente? Allora ci va una grande volontà e una grande partecipazione civile, sociale e popolare. Noi l'abbiamo realizzata nel tempo, l'abbiamo costruita anche questa fiducia nella tecnologia perché non le nascondo che l'approccio delle persone soprattutto alla tecnologia wireless è di grande diffidenza. Io stesso considero la fibra ottica come lo strumento migliore e più performante per realizzare i collegamenti a banda larga. Però purtroppo laddove la fibra ottica non c'è bisogna fare i conti con la tecnologia che è disponibile. Da questo punto di vista sicuramente il wireless può aiutare molto. È replicabile questa cosa? Sì. Se si trovano in giro per il nostro paese delle persone che hanno la volontà di mettersi in gioco e dedicare un po' di tempo e ce ne sono tantissime. Quindi in qualche modo sacrificare parte del loro tempo libero in realtà per contribuire ad un servizio da erogare e da mantenere sul territorio credo che potrà essere replicato in moltissimi posti. Lei ha citato la fibra ottica e allora le faccio una domanda su questo. È ipotizzabile che nel corso dei prossimi anni questo progetto si trasformi in collegamenti in fibra ottica tra le case sempre però gestiti da un'associazione? Esistono delle esperienze soprattutto in nord Europa in cui in alcune zone, soprattutto naturalmente in zone remote, non nelle grandi città, ci sono delle cooperative di cittadini che si mettono insieme e stendono a proprie spese fibra ottica magari anche in modalità aerea quindi senza scavare ma passando da una casa all'altra in modalità aerea e si attrezzano appunto per ricevere un collegamento con performance naturalmente molto interessanti. È ipotizzabile o molto difficile? Allora è assolutamente ipotizzabile. Noi abbiamo sicuramente una geografia complessa ma non molto più complessa della Norvegia o della Svezia quindi è assolutamente ipotizzabile. Chiaramente l'amministrazione culturale, io sono docente di comunicazioni radio quindi io spero che il wireless comunque rimanga un valore aggiunto per la distribuzione di un certo tipo di servizi al cittadino anche magari su una scala molto più localizzata. Però sicuramente il nostro è un primo passo e sicuramente l'evoluzione ma non può essere diversamente per il trasporto di grandi volumi di banda deve passare attraverso l'uso della fibra ottica anche in una forma associativa come la nostra. Professore la ringrazio, complimenti a tutte le persone che hanno partecipato perché la partecipazione soprattutto in questo caso è molto importante e in bocca al lupo per questo progetto. Grazie, grazie e vi terrò aggiornati sugli sviluppi. Naturalmente nulla da aggiungere, i complimenti li abbiamo fatti e questa è sicuramente una ottima esperienza. Queste sono zone dove già oggi la pubblica amministrazione, le regioni stanno facendo qualcosa, stanno cercando di ridurre il digital divide anche se alcune zone rimangono ancora complesse da raggiungere e sicuramente queste sono zone che il piano banda larga ha ben in mente e sono zone dove dovrà intervenire solo ed esclusivamente lo Stato. Sapete qual è la nostra posizione sulla infrastruttura di base che deve essere supportata dallo Stato in tutto il Paese, quindi non solo in queste zone, per vari motivi che abbiamo detto e ridetto tante volte anche pochi minuti fa. Prima di una breve pausa parliamo di turismo. Sapete che abbiamo già detto a 2024 varie volte che la tecnologia sarebbe uno straordinario volano per aumentare il flusso di turisti che vengono nel nostro Paese. Purtroppo negli ultimi anni altri hanno approfittato della tecnologia per portare in altri paesi una parte dei profitti che noi facciamo con il turismo. Pensate ai grandi siti di prenotazione alberghiera. Un 15-20 e anche più per cento di quello che un turista spende in un albergo a volte viene mandato in altre nazioni, tipicamente negli Stati Uniti, perché i grandi portali di prenotazione sono negli Stati Uniti. Xpedia, Booking e potrei citarne altri. Ce ne sono anche naturalmente non americani, ma gli italiani sono praticamente assenti da questo business. Consci di questa mancanza e della straordinaria opportunità di business che c'è in questo settore, ci sono due società italiane, Digital Magics e Uvet, che si sono impegnati in un progetto che vedremo concretizzato il prossimo anno, nei primi mesi del prossimo anno. L'obiettivo è raggiungere la messa online in maggio. Nascerà un nuovo portale con una serie di servizi che si chiama TripItaly. È stato presentato agli operatori professionali questa settimana, perché non essendo ancora online, per il momento ci si rivolge solo al pubblico di professionisti, però è interessante. È un mercato molto importante. Dal prossimo anno vedremo TripItaly. Che cos'è, come funziona, quali sono le caratteristiche? Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato della società, Lorenzo Baroni. Prima di tutto c'è una forte volontà da parte di un attore principale che è Uvet e di un player altrettanto forte, che si chiama Digital Magic, nel mettere insieme le rispettive capacità e competenze. Il primo farà confluire tutto quello che rappresenta l'offerta turistica, intesa come coral, gli allotment, i viaggi aerei, i biglietti dei treni e tutto quello che riguarda il DNA e la base di un viaggio. Il secondo invece farà confluire l'esperienza di una serie di iniziative, quelle che noi nel gergo chiamiamo start-up, tali per cui potremmo arricchire l'offerta con una serie di particolari che rappresenteranno i cosiddetti servizi ancillari, cioè tutto quello che va a completamento di una vacanza. Potrà essere l'escursione in Italia una volta che il nostro ospite sarà arrivato, potranno essere l'accompagnamento di una guida, il pick-up all'aeroporto, oppure servizi che vanno, come per dire, a completare l'esperienza e a renderla unica. Tutto questo sarà prenotato in un solo ambiente, entrerà in un solo carrello e diventerà oggetto di un solo acquisto. Questo è un progetto molto serio con capitali alle spalle, quindi anche un investimento in marketing e pubblicità molto importante nei primi anni, soprattutto nei primi mesi e anche nei primi anni di vita. Bene, questo è 2024, riparleremo anche di questo settore perché è molto importante per la nostra economia riuscire a capire come utilizzare e sfruttare le tecnologie per portare un numero maggiore di turisti, ma anche offrire un servizio migliore ai turisti. Siete all'ascolto di 2024, una breve pause, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizia che ci aiuta durante la settimana in redazione. Il nostro indirizzo di poste elettroniche 2024 è www.tradio24.it Ci trovate anche su Facebook e su Twitter, quindi se volete comunicare con noi e parlare con noi ci sono queste due ulteriori modalità rispetto alla e-mail. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, anche in replica la domenica tra le 13, dopo il GR delle 13 e le 13.30. Naturalmente ci trovate sempre in podcast e io consiglio a tutti i nostri ascoltatori di abbonarsi al podcast di 2024. Magari ci ascoltate in onda nei nostri orari di palinsesto, poi ci riascoltate in maniera più attenta in podcast. Una cosa bella sarebbe riascoltare anche a distanza di anni le trasmissioni. Comunque potete andarle a riprendere anche nel nostro archivio. Milano è la città più cablata d'Europa. Alcuni lo sapevano già, però questo è un dato che è stato diffuso in settimana dalle Censys, che lo ha certificato in una ricerca. Il 55% dei cittadini della capitale economica italiana, alcuni dicono, dice di essere molto soddisfatto dei servizi basati sulla fibra ottica. Io ho 100 megabits e sono molto contento, ha poco più di 30 euro al mese, pensate. Pensavo che fossero molti di più i milanesi soddisfatti del servizio. Un altro dato importante è che il 72,8, quindi quasi il 73% di chi abita in città, usa quotidianamente la rete, quasi il doppio della media del resto d'Italia, che è fermo al 39%. Questi dati ci fanno dire due cose, che innanzitutto l'investimento della pubblica amministrazione dello Stato nelle infrastrutture è molto importante, perché a Milano esiste la fibra ottica solo perché all'inizio degli anni a cavallo, tra il millennio precedente e questo millennio, si è decise di investire in fibra ottica. Magari non sapevano che cosa stessero facendo, però poi il risultato è un risultato positivo. Poi il comune avrebbe dovuto magari avere più attenzione a quell'infrastruttura invece che venderla, però sicuramente quella è una cosa positiva che la pubblica amministrazione ha fatto. E quanta fibra ottica è stata distribuita e posata in giro per l'Italia e oggi non viene utilizzata, almeno a Milano viene utilizzata. Quindi primo dato positivo. Secondo dato positivo, se in una città così cablata, dove la fibra ottica è così presente, il doppio della media nazionale usa internet quotidianamente, è un po' come dire, se faccio l'autostrada vedrete che poi la gente utilizza l'autostrada. E quindi tutti quelli che sono un po' dubbiosi su un investimento per cablare l'Italia in fibra ottica, con un investimento pubblico, dovrebbero togliersi i dubbi. Allora, che cosa stanno facendo gli operatori privati? Abbiamo detto prima che per quanto riguarda la rete fissa qualche cosa si sta muovendo. Sicuramente Telecom Italia, Fastweb stanno facendo degli investimenti, li stanno facendo anche gli operatori mobili. Allora, dovete sapere che all'inizio di novembre, Tim aveva annunciato la copertura dei primi 60 comuni a 180 Mbps con una tecnologia che si chiama 4G Advanced o 4G Plus, 4G Plus, che è l'evoluzione del 4G che può arrivare a 300 Mbps, una velocità incredibile. Quindi gli operatori italiani stanno implementando la propria rete, in modo particolare Tim e Vodafone. Questa settimana Vodafone ha annunciato la copertura di 80 comuni a 225 Mbps. Poche ore dopo, Tim ha rilanciato di nuovo, dicendo, no, abbiamo coperto, già sono passate alcune settimane, abbiamo coperto 120 comuni e anche noi andiamo a 225 Mbps. Insomma, al di là della gara che stanno facendo questi due operatori, che si traduce poi sostanzialmente in una gara di marketing per dire, sono più bravo io? No, sono più bravo io? No, sono più bravo io? Quello che a noi interessa è la tecnologia, come funziona e che cos'è questo ormai famoso 4G Advanced. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Rocchio, che è il CTO di Vodafone Italia, cioè il responsabile della tecnologia, Chief Technology Officer. Si occupa della tecnologia ed è sicuramente una responsabilità molto forte che deve essere utilizzata e come deve essere utilizzata, implementata da un operatore importante e grande, che lavora sia su rete fissa che su rete mobile come Vodafone Italia. Allora, che cos'è questo 4G Plus e questo 4G Advanced? Allora, il 4G Plus permette di arrivare, permette a noi di arrivare oggi, primi in Italia e unici in Italia per il momento, a 225 Mbps. Quindi se uno pensa che nel 2004, quando abbiamo lanciato il 3G con 384 Kbps, dieci anni fa, oggi siamo a 225 Mbps, un per mille in dieci anni dà un'idea di come, della velocità a cui si è mosso il settore e la tecnologia. 225 Mbps, che cosa ce ne facciamo? Praticamente, cosa ce ne facciamo? Se uno va a vedere, anche studiamo, qual è il comportamento dei nostri clienti, sempre più i nostri clienti, ma a una velocità notevole. Stanno modificando le proprie abitudini e fruizioni di servizi che necessitano di alta banda. Faccio un esempio. Tempo fa, anche, diciamo, l'abitudine era quella magari di fare un peer-to-peer, quindi di schiacciare un bottone, scaricare un file, aspettare, magari aspettare qualche ora e poi andare a vedere quello che era stato scaricato, no? Oggi non è più così, anche perché la tecnologia permette di utilizzare lo streaming. Quindi se io voglio vedermi un video su YouTube, anche molto pesante, schiaccio il bottone e lo voglio vedere. Lo voglio vedere in real time e quindi in streaming. In questo mette grossa pressione sulla rete, perché la rete deve poter erogare quel servizio in questo momento alla qualità richiesta. Poi io, come dicevo prima, quello che a me succede è che se su YouTube vedo un film a bassa definizione, vedo che il video che ho chiesto è a bassa definizione, non lo guardo. Cambio e cerco quello ad alta definizione. Se si pensa che oggi si sta andando verso il 4K, il 4K necessita di qualcosa che sta tra i 10 e i 15 megabit al secondo per poter essere fruito su un tablet o su uno smartphone evoluto. Quindi non è una roba da poco. Ecco quindi il 225 megabit al secondo dove vengono in aiuto, no? Come si raggiungono? È una tecnica particolare che permette di raggiungere queste prestazioni se si mettono insieme frequenze differenti. Senti, se siamo in 10 sotto a una cella che è capace di erogare questa velocità, ce la dobbiamo dividere questa velocità? Sì, questo è il principio diciamo della rete cellulare, la banda è in condivisione, però una cosa è condividere 225 megabit al secondo, un'altra è condividerne 40 o 50 o 100. Sotto all'antenna, quindi sotto al sistema di celle irradianti che sparano il segnale, ci deve essere della fibra ottica. Questo immagino che sia un problema perché portare, non so quanto dovete portare, un gigabit o forse più? Questo, come spiegavo prima, la velocità con cui si sono evolute le reti non si ferma. Quindi sicuramente la fibra è una risorsa importante per riuscire a arrivare a queste prestazioni. Utilizziamo anche pontiradio ad altissima capacità che abbinati, quindi una combinazione di pontiradio e fibra, riesce a dare questo tipo di soddisfazione. Le faccio una domanda su le antenne. Per erogare questi servizi e per erogarli nel migliore dei modi, si dice spesso che il 4G ha un'architettura con antenne molto più fitte rispetto al 3G. Cioè ci saranno e già oggi ci devono essere un numero maggiore di antenne? Della verità, noi oggi stiamo appoggiandoci moltissimo sulla rete esistente. Allora, continuiamo a sviluppare la rete mobile con nuovi siti, ma diciamo che la larga parte dello sviluppo della rete 4G è fatta utilizzando i siti che già abbiamo. Anche perché avendo la frequenza a 800 MHz, questo ci permette di avere un footprint, quindi una copertura simile a quella del 900 sul GSM. Quindi diciamo partiamo da un'ottima base. L'infittimento del 4G a cui PORSLE si riferisce, e che sarà necessario anche perché il carico dei dati richiesto dai clienti aumenterà sempre, verrà fatto con delle tecniche particolari, ad esempio a Milano abbiamo già un buon numero di quelle che chiamiamo small cell, quindi dai siti macro, che danno una copertura, noi chiamiamo macro, si passa a delle tecniche di copertura molto locali, quindi sono delle celle che hanno un raggio nell'ordine dei 60-70 metri, non di più, ma che raccolgono alte concentrazioni di traffico. Nel pieno centro di Milano ne abbiamo diverse decine, per esempio. Questo permette di liberare e quindi di dare sollievo al sito macro, che è dedicato magari invece più all'indoor, piuttosto che a coprire clienti che non sono sotto la copertura small, ma la small cell, che è questa nuova tecnologia, questa nuova tecnica di progettazione radio, è quella che stiamo sviluppando e che svilupperemo sempre più. Stiamo parlando dell'evoluzione del 4G, ne stiamo parlando con Fabrizio Rocchio, che è il CTO, il CIF Technology Officer di Vodafone Italia. Per alcuni il 4G è ancora una tecnologia molto nuova e pensate che i produttori di apparati che trasmettono e naturalmente di conseguenza gli operatori telefonici stanno già facendo un'evoluzione, stanno già parlando di 4G+, 4G Advanced. è la stessa cosa che successe per il 3G sugli smartphone, in alcuni casi c'è scritto 3G+, oppure HSDPA, HSDPA+, oppure H+, dipende dalle varie sigle, quella era l'evoluzione del 3G, che ancora oggi naturalmente è attualissima ed esiste. Stiamo parlando di una tecnologia che aumenta la velocità del 4G. Sul 4G si possono fare molte cose, ad esempio si può fare il Voice Over IP sul 4G, si chiama Voice Over LTE, quindi Voice Over sopra il 4G. Questa è una tecnologia che si sta ancora sperimentando, sembra facile, ma invece c'è ancora qualche piccolo problema, anche se appunto siamo ancora nella fase di sperimentazione, invece il 4G+, è già messo a disposizione commercialmente per tutti gli operatori, quali sono i vantaggi della voce su 4G? Di fatto una qualità superiore in termini di velocità di call setup, quindi quando io schiaccio il tasto verde per chiamare un mio amico, da quando lo schiaccio a quando suona passano meno di due secondi, e in più la voce ad HD, quindi alta definizione, quindi anche qua una qualità fonica superiore. Detto questo, a fianco alla voce si potranno fare un sacco di altre cose, perché mentre parlo potrò utilizzare la rete dati ad alta velocità, che vuol dire, sto guardando un video e te lo faccio vedere, piuttosto che ti mando una fotografia mentre parliamo, oppure stasera ci mettiamo d'accordo per andare a un ristorante, ti mando il triangolino di Google e con l'indirizzo preciso, così sappiamo esattamente dove trovarci. Praticamente quello che si chiama call enrichment, e quindi arricchimento della chiamata voce, è quello che permetterà di fare volte. E per volte intendiamo voice over LTE, come il voice over IP, che è tipicamente quello che ormai si fa in moltissimi casi su internet per risparmiare sulle telefonate, lo si potrà fare anche con tutta una serie di vantaggi che abbiamo sentito, anche sull'LTE, che di fatto è il 4G. Naturalmente di fronte a queste velocità, uno potrebbe dire, beh, a me basterebbe che la telefonia mobile funzionasse bene sempre. Allora, sicuramente gli operatori in questi anni hanno fatto molto per migliorare le reti, se uno gira per il territorio, ma è anche un territorio piuttosto complicato, quello dell'Italia, orograficamente molto complesso, ne sappiamo qualcosa noi, che dobbiamo diffondere il segnale della radio, quindi non sempre le lamentele, anche giuste e corrette dei consumatori, corrispondono poi a una possibilità tecnica di coprire il territorio per bene. Poi metteteci pure la crisi economica, la forte competizione che, non dimentichiamoci, ha creato negli ultimi anni un abbassamento molto forte dei prezzi di questo settore, che è uno dei pochi dove i prezzi si sono abbassati. Naturalmente molto di più si può fare. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, una breve pausa, riprendiamo, tra poco parleremo di pubblicità online. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024 Adesso parliamo di pubblicità online, questo è un mercato in crescita, un mercato che cambia molto rapidamente con tecnologie che stanno rivoluzionando e complicando anche le cose, devo dire, perché a volte si fatica a seguire l'evoluzione di questo settore. Allora, questa settimana il punto sul grande settore della pubblicità online è stato fatto allo IAB Forum. Lo IAB è un'associazione internazionale che rappresenta il mondo della pubblicità digitale, Interactive Advertising Bureau. Abbiamo parlato, abbiamo fatto il punto sul mercato con Michele Marzanne, che è vicepresidente di IAB Italia. Sì, questo è un passaggio fondamentale all'interno dell'IAB Forum, quindi dare una dimensione del mercato che nel 2014 va a raggiungere 2 miliardi di euro di investimenti in pubblicità digital. Teniamo presente che di fianco a questi ci sono anche poi gli investimenti in termini di produzione, quindi i video, i siti e tutte le creatività che supportano quello che sia il mezzo pubblicitario. La crescita rispetto al 2013 è importante, più 12,7%, quindi il comparto torna a crescere a due cifre dopo un paio d'anni di crescita di una cifra. Quanto vale la pubblicità in Italia? Quindi questi 2 miliardi si collocano all'interno di che tipo di scenario? Sono circa il 25% del paniere totale, il quale è sottoposto a delle pressioni di riduzione degli investimenti perché la pubblicità storicamente è iperciclica rispetto agli andamenti economici, quindi quando l'andamento economico non è positivo la pubblicità decresce ancora di più e viceversa. Però il digital cresce, rappresenta il 25%. La cosa importante è che tutte le aziende importanti e le medie aziende investono in pubblicità digitale, quindi questo 25% fa parte, chi più chi meno, a seconda dei settori merceologici, di una scelta consapevole e ormai costante. All'estero cosa succede? Questo 25% quant'è? Facciamo paragone con almeno i paesi più simili a noi. Non amo molto i confronti con la Finlandia, l'Estonia che sono delle piccole regioni, invece Germania, Francia, Inghilterra cosa succede? Allora, nel 2013 l'Italia era quinta in Europa e probabilmente quest'anno arriva al quarto posto. Dopo l'Italia c'è Francia, Germania e UK. UK ha un mercato digital 4,4 volte quello dell'Italia, la Germania 2,6 volte e la Francia 2 volte quello italiano. Quindi ci sono delle distanze ma nemmeno siderali. Sicuramente è diverso il panorama statunitense dove il mercato digital negli Stati Uniti pesa 18 volte il mercato italiano, quindi parliamo di mondi differenti. La cosa interessante è che in UK è già da due anni che il digital ha superato la TV. Da questo punto di vista non si può fare una vera previsione per l'Italia. l'Italia è un paese TV centrico, il mezzo TV ha sicuramente una forte presa sulle audience, ovviamente non su tutte le audience. La cosa interessante, se ne è discusso anche al forum, è vedere la contaminazione fra TV e video digitale, quindi pianificazioni che partono dalla TV per finire sul web e poi anche sul mobile, così come anche ospicabilmente viceversa. A proposito di modalità con cui gli investitori fanno pubblicità, una volta, ed era anche facile capirlo, si parlava di banner pubblicitari su un sito internet. Oggi le cose negli ultimi anni si sono complicate moltissimo, i consumatori capiscono che il banner esiste ancora, che è ancora una possibilità, il video sta crescendo ma stanno crescendo molte altre cose. Ci fai un po' di scenario da questo punto di vista? Sì, per provare comunque ad essere semplici, perché effettivamente le soluzioni sono varie e il digital è un cantiere sempre in evoluzione. IAB quest'anno ha voluto semplificare la mappatura dei numeri del mercato, quindi prendendo le varie tipologie in modo ancora più semplice. Abbiamo da una parte il display advertising, quindi tutta la pubblicità che presenta un messaggio tendenzialmente su un sito web, che è fatta poi di banner advertising, inclusi anche i rich media, di video advertising e di social advertising. Poi c'è il mondo del search advertising, quindi i motori di ricerca confermano una crescita anche quest'anno con più 8,7%, non sono più l'unico canale di accesso al web, perché il social si sta affiancando a questo. Dopodiché c'è l'email advertising, uno strumento di contatto sempre importante, soprattutto per il mondo del direct response, quindi le campagne di direct marketing, e poi il grande conglomerato del classified, quindi quelle inserzioni verticali sull'immobiliare, piuttosto che sull'automotive, o anche sulla questione personale, dove gli utenti del web mettono in vendita oggetti personali. Ecco, con queste macro categorizzazioni abbiamo, quanto meno, dato una mappa, una bussola di orientamento. Ovvio che all'interno di questo nascono sempre novità. C'è una novità di cui si parla da un po', ma che sta raggiungendo dimensioni abbastanza interessanti, che va sotto il nome di programmatic. Ci spieghi che cos'è, a cosa serve, e come funziona? Per rendere in italiano, programmatic significa programmatico, e cioè ci sta dicendo un programma, un software, quindi, altrimenti non è che un insieme di tecnologie, e quindi software, che permettono di far incontrare domande d'offerta. Queste piattaforme accelerano e semplificano i processi operativi del media buying, del media selling, quindi il publisher mette a disposizione... L'acquisto della vendita e della pubblicità. Esattamente. E questo è un cambio tecnologico, quindi poi come tutte le tecnologie che cambiano i contesti ambientali, anche questa tecnologia sta portando delle innovazioni nel digital. La cosa interessante è che nel programmatic si innesta il mondo dei dati, e quindi se dovessi usare un acronimo, un altro nome rispetto a programmatic, potrei dire data-driven advertising. Questo è il plus che oggi gli investitori possono utilizzare, andando a segmentare le audience sul digital, con l'opportunità quindi di esporre il giusto messaggio alla giusta persona, nel giusto contesto, nel giusto momento. Bellissimo, te lo ruberò, anche se immagino non sia il tuo data-driven advertising. Non è mio ed è tutto for free, quindi volentieri. Sì, esatto, è open source. Però visto che io sono un grande sostenitore nel mondo del business, di tutto quello che va sotto al mondo dei dati, cioè abbiamo la possibilità di raccogliere dati, fare analisi, e quindi le aziende dovrebbero utilizzare questi dati per prendere decisioni. Data-driven decision, e non stomach-driven decision, che troppo spesso poi fanno andare contro un muro le nostre aziende. da questo punto di vista c'è chi dice che sicuramente la pubblicità diventa più efficace, mira ad un consumatore in modo molto più preciso, però c'è un grande problema del mondo dei professionisti. Molti potrebbero scomparire, certo, forse sostituiti da scienziati che pianificano una campagna pubblicitaria basandosi proprio sulla scienza del dato. Beh, come dicevo prima, la tecnologia cambia i contesti ambientali, e quindi una volta c'erano le carrozze, poi c'era l'auto, una volta c'era il server, oggi c'è il cloud, e la stessa cosa a livello di cambiamento avverrà nel digital advertising. Il messaggio è già stato passato, cioè le aziende si devono qualificare su questi temi. Crediamo che sia un'opportunità, in ogni caso non è pensabile che programmatico sostituisca modalità di vendita e acquisto tradizionali. Do due numeri. Oggi negli Stati Uniti questa metodologia rappresenta il 47% degli investimenti, da qui a due anni rappresenterà il 65%, in Italia rappresenta il 10%, quindi la forza lavoro, i professionisti hanno tempo per organizzarsi, perché anche gli Stati Uniti hanno un loro tasso di crescita, ma che non va a soppiantare totalmente la metodologia tradizionale. Ovviamente questo può essere più un'opportunità per chi si dimostra dinamico e flessibile e voglioso nell'ambito dell'apprendimento. È tutto per questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, per il vostro ascolto, per aver scaricato la nostra versione podcast o averla ascoltata in streaming. Fate pubblicità al nostro programma, soprattutto a chi lavora in azienda, lavora all'interno della pubblica amministrazione. è importante che quello che dicono i nostri ospiti, più che quello che dico io, gli esperti sono i nostri ospiti, si diffonda, perché ne va del futuro anche del nostro paese. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate gli orari del nostro palinsesto. 2024 vai in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13.30, naturalmente sempre quando volete via podcast. Io sono Enrico Paglierini, ci trovate su Facebook, Twitter o via mail 2024 letradio24.it Continuate anche a scriverci per dirci come ci ascoltate in podcast, in ufficio, in automobile, mentre correte, in treno, mentre lavorate, dipende, insomma, ci sono tantissime persone che ci scrivono, anche dall'estero e anche un nostro ascoltatore dal deserto algerino dove sta lavorando e non è che è lì a diversirsi e a fare un safari. Quindi, grazie per tutti i nostri ascoltatori in qualsiasi parte del mondo. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024 2024 2021 Seconde We're going for auto sequence start 2024 2024 2024 2024